Ogni giorno le persone che passano qua, specialmente in bicicletta e in motocicletta, rischiano la vita. E questa è una cosa assolutamente inaccettabile. È la denuncia sullo stato della Pistoia Riola fatta da Franco Matteoni, consigliere di opposizione nel comune di Sambuca. Non tagliano più l'erba, le scarpate sono veramente in condizioni disastrose. Ma la segnaletica orizzontale ormai non esiste più, non si vedono più le strisce laterali alla strada, non parliamo delle barriere di sicurezza. Veramente questa è una strada abbandonata. Un problema di vecchia data sul quale lo scorso gennaio il Consiglio Cittadino del Centro Montano si è espresso all'unanimità per chiedere alla provincia di intervenire urgentemente per risolvere i diversi problemi esistenti e ripristinare così condizioni di sicurezza, attivandosi anche nei confronti del Governo Centrale, vista le difficoltà economiche dell'ente locale, per ottenere aiuti. Ora, la provincia, se non ha proprie risorse, che si faccia sentire con la Regione, che si coordini con le altre istituzioni. Ma non si può far finta che le cose vadano bene. Questa, tra l'altro, è una strada che diventerà, fa parte già del percorso della ciclovia del Sole. Ora, come si può a noi presentarsi con un progetto così importante che addirittura di livello europeo e ci siamo dati da fare tutti quanti, dal Sindaco agli altri amministratori di Sambuca e di Pistoia, perché il territorio di Sambuca venisse attraversato da questa importante ciclovia e poi gli si dà una strada in queste condizioni. Io credo che un amministratore, se non è in grado di fare quello per cui i cittadini lo hanno votato, si deve dimettere. Deve fare una pubblica denuncia e dice io non sono in condizione di fare il mio lavoro, mi dimetto. Dopodiché forse qualche cosa succederà. Ma non si può fare finta di niente, non rispondere alla sollecitazione addirittura ad una delibera adottata all'unanimità del Consiglio Comunale di Sambuca il 30 gennaio. Tra l'altro questa delibera è stata adottata su sollecitazioni e su lettere e petizioni sono inviate da varie associazioni locali. Il Comune le ha recepite e ha fatto questa delibera. Ma da allora, sono passati altri sette mesi, non si è visto niente assolutamente.